Bisogna già avere una squadra molto allenata, molto valida, molto capace di muoversi e quindi già collaudata da questo punto di vista, quindi c'è stato da questo punto di vista un lavoro insufficiente. L'altro problema è la nascita del centrodestra, la nascita del centrodestra ha portato a questo contatto con il berlusconismo che noi non siamo riusciti a gestire e di cui sostanzialmente ci siamo fatti duramente condizionare, questo non perché io aderisca affatto e ci mancherebbe alla retorica della sinistra di demonizzazione nei confronti di Berlusconi o altre cose di questo genere, ma perché quel meccanismo dei valori, quella centralità dei valori, quella attenzione alla costruzione delle persone, quella capacità di fare partiti politici come seleziona la classe dirigente nel contatto con il berlusconismo sicuramente si è attenuata.